Siamo alla prima Strudel Cup, primo campionato nazionale dello Strudel, con sette finalisti che dopo aversi conquistato il posto autorevole di finalisti si stanno adoperando per preparare il loro Strudel e quindi qui in quattro ore a disposizione dovranno preparare il loro Strudel e farlo assaggiare una giuria di professionisti molto competenti, di giornalisti e anche di amatori. Ho presentato questo Strudel che è stato il vincitore della prima Strudel Cup. È particolare in quanto la parte estetica ma ovviamente anche commestibile è fatta da questo aspetto di legno che ricorda ovviamente il Trentino, così come le mele piegate a farfalla che stanno a ricordare la forma stessa del territorio trentino. Grazie a tutti! Grazie a tutti!